Si è chiusa con un nulla di fatto la prima odienza del processo per l'omicidio di Leonardo Locascio, il portiere di note di 38 anni ucciso per un cellulare e una manciata di euro la sera dello scorso 30 marzo nei giardini del Palazzo di Giustizia di Prato. Un difetto di notifica all'imputato Abdelgani Ammari, marocchino di 30 anni, ha fatto slittare l'inizio del processo di una settimana. Ammari comparirà di nuovo davanti al giudice delle odienze preliminari il 4 ottobre e sarà quello il momento nel quale verrà deciso sia accogliere oppure no la richiesta dei suoi difensori di celebrare il processo con rito abbreviato, che nel caso arriverà a sentenza entro pochi mesi, il 14 febbraio. Se invece il giudice deciderà di rigettare la richiesta, il procedimento si sposterà alla Corte d'Assise di Firenze. In ogni caso l'imputato rischia l'ergassolo perché sul capo di imputazione, omicidio volontario, pesano tre aggravanti, la rapina, la minorata difesa e i futili motivi. Intanto l'imputato ha offerto alla famiglia della vittima 15.000 euro il ricavato della vendita di un terreno in Marocco. Non un risarcimento, come hanno precisato i suoi avvocati, ma solo un gesto simbolico. Madre, fratello e sorella di Leonardo Locascio, costituiti parte civile, hanno rifiutato l'offerta. Il 38enne fu ucciso proprio nei giardini del Palazzo di Giustizia, mentre a piedi, dopo essere sceso alla fermata dell'autobus in via Ferrucci, stava andando a prendere servizio all'Art Hotel. La tesi della procura è che sia stato un omicidio per rapina. Noi francamente pensiamo che invece si sia trattato di un episodio ancora più grave, perché probabilmente l'omicidio è avvenuto per un rifiuto a una richiesta di denaro, di qualche sigaretta, insomma, quindi un omicidio assurdo per motivi francamente abietti. La rapina c'è sicuramente stata, però probabilmente è legata a una volontà di inquinare le indagini. Locascio, come stabilito anche dall'autopsia, fu colpito al collo con un oggetto contundente, forse un coccio di vetro mai ritrovato. L'omicida fu arrestato 48 ore dopo all'aeroporto di Bologna, mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto in Marocco.